Continua l'ondata di furti nelle campagne della piana di Catania, dove per fronteggiare il fenomeno, quasi un anno fa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la prefettura di Catania. Nulla è cambiato, né per quanto riguarda i controlli, né per la repressione dei reati. Questo afferma il presidente provinciale della CIA di Catania, Giuseppe Di Silvestro. Di fatti non è cambiato niente. I furti in campagna sono aumentati, soprattutto in questo periodo, con i furti di frutta. Da quel momento non è cambiato niente perché bisognava monitorare la situazione, sia nelle campagne per quanto riguardava i furti, ma anche altre situazioni. Allo stato attuale non è cambiato niente. Noi chiediamo alla prefettura e agli organi competenti di intervenire perché sta diventando un fenomeno molto diffuso e crea tanti danni agli agricoltori. Le persone sono sfiduciate e non denunciano più perché non vedono nessuna prospettiva, nessun cambiamento rispetto al passato. Quindi ritengono di non fare delle denunce.